Il 22 di aprile 2001 Si chiama, abbiamo titolato Nice Girls Women Mi è venuto in mente vent'anni fa Quando ero in macchina Dal mio amico maestro Top Supremo, Tone e Fabio Ero con lui mi è venuto in mente a questo motivo E poi l'abbiamo trascritto oggi Dopo vent'anni Per il motivo del contesto Nice Girls Women Ok, videoclip Dedicato a all the Girls Women in the World Ciò, videoclip numero 1 Ciao Non, 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 ironically. In every world view All my world house In the office fam Here after love fam Pedal with you Giapattai del Bego In the caro rai fa Music and launch a band from D.J. Tommy Faub Music and launch a band from Fabio Writer, write, cantate, sing Parole, motivo Motive, words Maui Zambelletti, Aerosmith, Ozaio Wendy, yes, go In the end Motivo di 20 32 anni fa Aerosmith, chutebirds, galei amy Very good In the end Aerosmith, pastors, diri amy Winner, pintor Indicates as Tobego, vega Wilbur For Van, 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 You, I become crazy for you Every time Oh come In the Iceland Girls Women Swam In the sea And the coconut Getting clean Too much In the house What's your man? It's the first In the night Honda Let's start with you Oh yeah Let's go My girls Women Guide Biggie To be continued Two 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 Three Podcast Two Buongiorno a tutti, io mi chiamo Mauro Zambelletti, mio nome d'arte è Michael Zatti, sono un esperto di arti marziali, io frequento la scuola di Tai Chi, di Kung Fu, per privacy adesso non dico il nome, è uno stile di Bustillo che è stato fatto tanti anni fa, l'ha fatto anche Teddy Wall e Richard Bustillo, hanno fatto anche loro un sito su Youtube, io voglio far vedere con mia figlia che poi adesso arriva delle mosse di autodifesa per donne e per ragazze, poi le possono vedere tutti, anche uomini, perché è un sito pubblico, però normalmente indicato come l'ho fatto a Milano, a Roma, sono dei centri di autodifesa gratuiti per le donne, questo qua è una specie di corso, un mini corso facciamo, di difesa personale per le ragazze e per le donne che vengono aggredite nei paesi della nostra città. Ripeto, Mauro Zambelletti in arte è Michael Zatti, le riprese le fa un maestro di arti marziali, Torme Fabio, Torme Fabio è anche lui maestro di arti marziali, ma lui non fa da partner, ma fa le riprese, mentre mia figlia adesso, la Miriam, dice a Zambelletti, farà la mia vittima, la mia partner, è una donna, eh? Ok. Vai. Allora, se una persona che afferra qua, o anche al collo così, la prima cosa è tirare una gomitata alle costole e poi uno così, o anche con questo, uno le costole e due così. Se lei è proprio di dietro, che io non riesco a meccarla, posso comunque scivolare di qua, oppure scivolare di qua così, oppure scivolare di qua e dargli così. Se lei mi afferra invece, mi afferra le braccia, afferra le mie braccia, io posso lo stesso, se è un uomo, dare un colpo di genitali con questa o con questa. Oppure ad un certo punto posso avanzare di un passo, mi butto giù così, e la sta avverto di qua. Mettiti qua di nuovo, mi afferri, oppure di piedi in avanti, mi butto giù con la schiena, lei viene giù con me, e io la sta avverto. Si chiama una torsione, una rotazione del fianco, praticamente è così. Poi, lei sta davanti a me, non so se si vede, sta davanti a me, allora, metti un po' più di là, così in baestro, ci puoi vedere. Lei mi può prendere, capisci, qualcolo, io per alleviare la pressione, con questa mano abbassa un po', ci posso dare o un pugno così, o un pugno così, mi sarebbe, uno, rotazione, la colpisco qua, due, sempre qua, tre, quattro, perché qua davanti, se posso entrare nella guardia, così, se no, si può anche fare, quando lei mi prende così, posso fare una mossa, quindi qua, appasso le due braccia, gomicata, prendo giù, le strazzate, le metto giù, oppure sempre, che mi afferra la maglietta, invece che usare questa mano qua, uso questa mano qua, dice che questa, uso questo, stesso movimento, giù, spazzate la gamba tesa, quando giù, poi la finisco, poi lei mi prende qua, mi blocca le braccia, io quando, blocca le braccia, le braccia, quando io ho le, ma anche, anche, anche tu, anche tu, vieni così, blocco, così, agghiglia, mi, qua, le braccia, Allora, io cosa faccio? Ad un certo punto, tiro il ginocchio indietro, se è un uomo, anche, tiro e colpisco qua, oppure, lei è qua di 5, io 1 e colpisco qua. Allora, lei mi stringe, io potrei fare, però se lei mi stringe con il braccio un po' più basso, che io non posso muovere le braccia, io ad un certo punto, posso anche, con il piede, uno, all'altezza di qua, un'altezza di qua, un'altezza di menisco, e un'altezza delle corsa, oppure con questo, sempre, colpire alla tiglia, colpire al menisco, o colpire alla corsa, oppure ad un certo punto, si può fare così, lo sgambetto, anche se lei mi tiene le braccia, ti tieni forte, io faccio così, mi scavendo giù, oppure con il piede con l'altro, allo stile di pezzi, così, te le va giù, oppure di qua, aspetta, metti i piedi lì, prendi bene le braccia, allora io posso fare così, e da giù, ok, queste qua le abbiamo fatte, ok, un attimo, adesso le faccio vedere da solo, allora, abbiamo detto, uno mi prende di dietro, se mi prende solo il collo, io posso fare, ho il colpo nei genitali, oppure uno, uno, due, colpo genitali, oppure uno, uno, due, se uno invece mi arranca di dietro, che mi blocca le braccia, in un certo punto, sono un po' immobilitato, allora potrei fare, o lo sgambetto così, e va giù, o la parte in avanti, o lo sgambetto così, oppure anche lo sgambetto così, e lui va indietro, sino ad un certo punto, c'è la rotazione, perché, piedi lì avanti, vai giù, e poi quando, colpita, non guardo giù, perché, questa maglia, non so come mai, 99 euro, stavate, sì, filmata, non so, come mai costa così tanto, ma, me l'ha regalato a persona, 99 euro, oppure, si fa giù così, e si fa così, a questa parte, se no, si fa così, si va giù, a questa, si chiama rotazione, torsione di fianco, oppure, il colpo così, se uno, poi, ti blocca sempre, puoi scivolare, così, e puoi darci un colpo così, oppure puoi scivolare anche dall'altra parte, in modo che, lui, di dietro, il mani, non so che ci dà il colpo, invece, davanti, se uno, ti abbracca le braccia, le indiettali, oppure con questo, oppure, tiri indietro, più dopo, sinistro, colpo, poi, con la colpo, destro, colpo, e poi puoi fare i vari sgambetti così, così, oppure, un calcio da una parte, un calcio da un'altra, un calcio un po' più alto, tibia, penisco, addirittura, coscia, e così puoi portare, quando vi ho fatto la maglietta, se uno sono mossi, dici, quando? di questo, e di questo, quando, se uno ti entra alla maglietta, tante volte uno ti porta, però è la maglietta, allora, cosa fai? con la mano sinistra, di tutto il mio braccio, fai, con il colpo, ci fai la spaccata, quando giù, ci dai un calcio, e lo finisci, questo qua, se invece, se lo vuoi fare con questo braccio qua, invece, fai, invece, che con questo, ti afferra la maglietta, così, dai, un po', un po', un po' di nuovo, anche per questa gamba, ti fai lo spazzato, gli passi due collegate, e poi, dopo, gli dai un calcio, però finisci, poi, c'è, uno, se fu, vieni qua, da qua, se uno, se lei mi dovesse ferrare, lei mi dovesse ferrare con la testa così, io sono così, no? e lei mi blocca, no? Io posso dare un colpo qua così, e uscire, oppure, un colpo qua così, e uscire, qua dove, oppure, lei, scusa, si mette con la testa, non so, io prendo con la testa così, posso buttarla giù, ce ne sono tanto, poi c'è il braccio incrociato, tu mi prendi il braccio, questo qua, mi tieni il braccio, io posso dare un calcio, una gomitata, metto la spazzata e va giù, oppure con questo qua, io, posso anche, lui mi prende, io posso anche fare uno, con questo qua due, tre e quattro, poi c'è questo qua, mi tieni il braccio, io posso anche fare il puno incrociato, ossia, poi mi tieni il braccio e qua, io posso tutto, non posso più liberarli, ma faccio così, e mi animo la gomitata, così, questo qua, mi tieni il giro di qua, e la gomitata, poi, lei mi prende di qua, questo qua si chiama presa dell'osso, lei mi prende questa parte, allora io posso fare tante cose, posso farli così, mettergli le dita, negli occhi e nel naso, se fosse un uomo, li posso prendere i genitali, se non fosse un uomo o altra donna, io metto tra le due spalle, lei stringeva, io prendo le mani così, si metto le dita, negli occhi e nel naso, lo tiro giù e lei caga, giusto? Ok, fino a qua ci siamo. Questa volta, non c'è, 5, 106 anni, salute, guisco, stiamo così, via, salute a tutti, ok, cin cin, allora, ora un pezzo veramente favoloso, l'ho fatto in versione reggae, Nice Girls Woman Jamaica, questa volta con l'orchestra del maestro Torme Fabio, è scritta, la musica chiamata, è scritta da Mauro Zambeletti, una canzone come aveva già raccontato, a 18 anni mi è venuto in testa, in my head, a 80 years, poi Upstate Singer, adesso la canto e cantata, Nice Girls, dedicata a tutte le donne, dedicata a all the girls, a all the women, dedicata a tutte le donne, Nice Girls, Women, European, all the world. Go with your friends, there, come on! Nice Girls, Women, European, in all the world. I say beautiful, nice girl, woman in London. In Lettonia, Lithuania, by New York, China, Paris, Berlin, Riga, Lettonia, Japan, Hollywood, Hollywood, California, India, Hollywood, Tokyo, Vanilla, Siripi, In Las Vegas, Thailand, Bangkok, Singapore, Hong Kong, Maccao, Let's go! Music of the teacher, Big teacher, Thomas Fabio. Light, sing from Mountbet, Nice Girl Woman, open all the world. Maria, Si de Melbourne, New York, New York, del Sud, Rome, Italy, in Europa, New York, all the world. So, we play the moment, especially in Italy. In London, Big band, Paris, to be fair, New York, Central Park, Manhattan, Bell In Nevada, Fabio, Las Vegas, and Uedin, Chattel And Los Angeles, LA, with Santa Monica, Bell Hollywood, Columbia, Pitcher, Sunset, Blue, Leva, Hollywood Beverly East, 2012, in California Nice girl, woman, in Europa, in all the world I say, beautiful, nice girl, woman, here London, Paris, Berlin, Origa, Lettonia, Ritualia, Spain New York, San Japan, Hollywood, California India, Borybun, Tokyo, Manila, Irritualia, Svega, Bangkok Thailand, Chicago, Hong Kong, Roma, Italy, mainland Thailand